Il Comune di Sciacca non intende perdere le opportunità offerte da un bando comunitario per interventi di risanamento e riqualificazione ambientale che scade il 10 ottobre prossimo. Entro quella data l'amministrazione comunale presenterà infatti un progetto di riqualificazione bonifica dell'alveo del torrente Can Salamone. L'argomento è stato al centro nei giorni scorsi di un'apposita conferenza di servizi ad annunciarlo al nostro telegiornale e l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Neri. Si è tenuta una conferenza di servizi con i componenti della giunta, il sindaco e anche l'ingegnere Castaldo e altri consulenti che avevano lavorato agli stralci precedenti di una riqualificazione nonché bonifica dell'alveo Can Salamone. Noi presenteremo entro il 10 ottobre un progetto generale, sono già stati fatti due stralci, il progetto generale dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro. Sicuramente sarà un progetto esecutivo e stiamo avviando le procedure per poter avere le carte in regola entro il 10 ottobre. Le opere previste dal progetto già ammannito delle necessarie autorizzazioni per ciò che concerne il primo e il secondo stralcio mirano a scongiurare eventuali esondazioni del torrente. Il progetto prevede intanto un incassettamento del torrente che per ora è dentro uno speco di circa 8 metri quadrati. La nuova progettazione prevederà che questa cassetta sarà di circa 25 metri quadrati. Quindi per quanto riguarda il contenere l'alveo e soprattutto le possibilità di esondazione saranno molto controllate. Opere importanti dunque se si considera che l'esondazione del torrente Can Salamone fu la principale causa dei gravissimi danni provocati lo scorso inverno dal nubifraggio di novembre. Dopo la presentazione c'è da sperare nell'inserimento del progetto in una posizione utile ai fini dell'ottenimento del relativo finanziamento. Sono importanti soprattutto perché riqualificando l'alveo andremo a controllare ovviamente tutta l'eventuale esondazione e quindi gli eventuali danni successivi che si potrebbero provocare alle pile del ponte che è interessato in questo momento.